AGR nasce nel 1975 su iniziativa di Giovanni Ruggero, mio padre, che si occupava di rappresentanze tecnico-industriali. Nel 2004 abbiamo avuto una ristrutturazione e abbiamo deciso di costruire gli stessi impianti che prima si vendevano a mezzo alla rappresentanza e agenzia e destinarle direttamente all'industria chimico-farmaceutica. In questi dieci anni abbiamo sviluppato i nostri brevetti con la nostra tecnologia che permette il trasporto e il dosaggio delle materie prime in ambito farmaceutico in pieno contenimento, polveri, rispettando le severe norme FDA e TGMP. I prodotti AGR si contraddistinguono per la loro versatilità, grazie alla possibilità di essere personalizzati in base alle specifiche esigenze di applicazione e di processo del cliente, mantenendo nel contempo invariata l'eccellente qualità. Inoltre, grazie al supporto di un team di tecnici specializzati, AGR riesce a garantire ai propri clienti un supporto costante nella scelta e nell'elaborazione del progetto più consono alle loro esigenze. propone soluzioni ottimali e personalizzate, curando nel particolare ogni singola fase della progettazione e produzione, riuscendo a garantire nel contempo la massima vivibilità negli ambienti di lavoro e una particolare attenzione per le mamme che lavorano in azienda, grazie alla costituzione di un nido al proprio interno. Grazie al bando AIDA siamo riusciti a costruire la prima stazione di svuotamento big bag su cele di carico. Questo permette alle industrie che ne usufruiscono di poter dispensare velocemente il batch size facendo molta efficienza. Abbiamo avuto esperienze molto positive in famose industrie farmaceutiche e i tempi di riduzione di lavoro sono nell'ordine del 40-50%. La soluzione brevettata da AGR prevede che i big bag da 500 o 1000 kg contenenti le materie prime vengono posizionati su un'apposita struttura che ne permette lo svuotamento in un contenitore che rappresenta poi il premiscelato. Il tutto progettato, costruito, assemblato e collaudato dalla AGR nella propria sede di Cassino.